Avete visto anche voi il promo in tv della decima stagione di Un medico in famiglia e avete cerchiato il rosso sul calendario il 7 e l'8 settembre? Ebbene, finalmente l'attesa sta per terminare e l'appuntamento con una delle fiction più amade di sempre è irrimediabilmente vicino. Noi vi assicuriamo che non mancheranno colpi di scena e rimergeranno dal passato segreti inconfessabili. Prima di lanciare quella che appare come una vera e propria bomba della sceneggiatura, il colpo di teatro che non ci saremo mai aspettati, Contestualizziamo meglio le immagini diffuse nel promo. Nonno Libero e suo figlio Lele, Grande Ritorno, si ritrovano a trascorrere qualche giorno in Salento prima di tornare a Roma ed essere catapultati in una serie di rivelazioni inaspettate. La famiglia infatti sarà messa a dura prova dalla scoperta che uno dei volti storici della fiction in realtà non ha il DNA dei Martini. A quanto pare Annuccia, interpretato da Eleonora Cadedu, sorellina di Ciccio e Maria, non è figlia di Lele Martini ed Elena, che prima di morire ha portato con sé nella tomba un segreto scoperto soltanto a distanza di vent'anni. Non è finita qui però dal momento che sarebbe nota anche l'identità del padre biologico della ragazza. Trattasi di Valerio Petrucci, interpretato da Stefano Diorisi, che tenterà di instaurare un rapporto con la figlia, coltivando con lei lo stesso interesse per la musica. L'uomo infatti userà la sua esperienza in campo musicale per conoscere meglio Annuccia e avvicinarla a sé, mentre il resto della famiglia resterà sconvolto dalla notizia.